i migliori fumetti cazzuti della Bonelli di Landog una pessima annata questa bella gnocca qua, si proprio lei poi c'è Samu Stern simulacra sempre ben thrilleroso fatto da Dio sì è il prossimo numero eccolo qua e poi ma c'è Zagor nessuno innocente con le avventure di Zagor e Cico disegni fantastici di Mangiantini il seguito nubi agnelli cazzuti cucchi